carissimi amici buongiorno eccoci ad una nuova puntata di in salute la nostra trasmissione che si occupa di salute e oggi parleremo di come studiare il cuore voi sapete che il cuore può essere studiato con un elettrocardiogramma che è la registrazione degli impulsi elettrici che partono dal cuore e si trasformano su carta in uno speciale apparecchio si trasformano quindi in onde che ci descrivano se il nostro cuore sta funzionando bene oppure no poi abbiamo un'altra possibilità di vedere il cuore diciamo al suo interno attraverso l'ecocardiografia l'ecocardiografia come si fa sempre attraverso un apparecchio che ha delle sonde un apparecchio doppler come vi ho fatto vedere per quanto riguarda le vene così noi possiamo fare un'ecocardiografia attraverso la parete del torace con un'apposita sonda noi andiamo a vedere come funziona il cuore quindi potremo vedere le valvole potremo vedere la parete del cuore potremo avere la capacità di contrazione del nostro cuore se il nostro cuore funziona abbastanza bene oppure ha una riduzione della sua capacità lavorativa se il nostro cuore è stato modificato ad esempio in un paziente iperteso perché sapete che l'ipertensione comporta uno sforzo da parte del cuore e quindi modifica anche la forma del cuore così come le pareti di un cuore che ha subito un infarto non torneranno più quelle di prima e noi con un'ecocardiografia potremo vederle con chiarezza tutte le malattie delle valvole sono studiabili attraverso un'ecocardiografia trans toracica oppure trans esofagea quindi andremo a vedere innanzitutto se il nostro cuore è posizionato al posto giusto e si dice situs solitus nel nostro linguaggio scientifico poi andremo a vedere se le quattro camere sono normali se le valvole sono normali come vedete dalla sonda vengono emesse delle onde doppler che poi tornando indietro sullo schermo disegnano le pareti o tutti i tessuti che abbiamo attraversato quindi dicendoci se quelle pareti hanno subito dei danni hanno dei danni oppure ci troviamo di fronte a delle valvole ammalate seguirà un piccolo video in cui vi farò vedere in diretta come questo viene fatto in questo momento io vi saluto e vi auguro di stare tutti quanti bene ma di seguire i miei consigli in modo da essere più informati vi abbraccio forte e non appena lo potremo fare ci abbracceremo da vicino e mi raccomando state in casa siate bravi seguite le regole che avete imparato eccoci ancora una volta in diretta dal nostro ambulatorio fisiomedica che situa ad agropoli fisiomedica dei dottori serra schettino io sono la dottoressa serra quest'oggi vedremo insieme un'ecocardiografia ecco che ho posizionato la mia sonda del mio ecografo su una paziente e in questo momento stiamo osservando una immagine della mitrale ve la indico col dito e dell'aorta ve la indico col dito come vedete la mitrale ha due lembi uno posteriore e un anteriore e la nostra aorta è una volta tricuspide quindi normalmente è fatta da tre lembi e quindi eccoci qua invece siamo su una quattro camere se vediamo il colore ecco qui come vedete il sangue scende dai ventricoli agli altri dagli altri ventricoli e il cuore si contrae in questo caso normalmente andiamo a mettere una sonda ed eccoci abbiamo la velocità del sangue cioè come il sangue attraversa la valvola in questo caso mitrale se sposto invece sulla valvola ortica vediamo che abbiamo il flusso invece di come il cuore spinge in sistole il sangue al dalla orta a tutto quanto il nostro organismo come vedete le due camere in basso ve le segnalo sono gli altri le due invece i due spazi in alto sono i ventricoli allora possiamo dire che questo cuore è ben funzionante le valvole sono perfettamente funzionanti la funzione del cuore è perfetta questo è quello che noi possiamo chiedere ad un esame ecco color doppler io vi saluto per la prossima per il prossimo tutorial per il nostro prossimo video grazie per l'attenzione